io ho il Gatorade per sei mesi ero in alta montagna l'unica cosa che ho il Gatorade dentro il Gatorade nel Montesa è andato avanti due mesi senza dire un cazzo col Gatorade bello tranquillo anche io oh Pietro uguale io vado giù in garage di cazzo che bella che sei una figata prendo chiudo vado via guardata non se ne parla neanche dopo chiamo a Ciri la porta la capito faccio scaldare poi a freddo tiro fuori tutto un'altra volta come lo apri sto a fare con l'aceto anche l'olio ah proprio track è come un catetere però adesso bisogna vedere se va la ventola devo tirare giù anche il carter e regolare la frizione perché l'internamento non è regolato giusto devo guardare anch'io la catena l'avevamo fatta Severino per me si è intrappolato in qualche rone c'è più dentro c'è quella vite col bullone col dado e ho capito ma Ciri la frizione cosa ti fai? te cosa ti fai di solito la frizione Zampi? dov'è? l'ho cambiato una volta un beta e basta ho ancora casi dischi appesi la in garage se non li ho regalati a qualcuno cambi l'olio ma poi cosa devi fargli? la frizione quando la cambi la cambi e basta non li ho regoli piatti e dischi